Siamo con Giacomo Rossi, titolare della Cavergina Country House, nonché neo vincitore del programma 4Tel, andato in onda giovedì sera su Sky 1 con Bruno Barbieri. Per esservi classificati primi in questa gara competizione che riguardava i Bike Hotel, ve l'aspettavate questa vittoria? Che cosa avevate in più rispetto agli avversari? Innanzitutto siamo contentissimi, questo va detto, e la nostra felicità è data proprio dal fatto che comunque sia non era assolutamente scontata, quindi metterci in competizione con strutture comunque sia storiche e importanti da un punto di vista di offerta specifica e specializzata per Bike Hotel è stata sicuramente una sfida molto molto interessante. La competizione comunque è stata tiratissima fino all'ultimo e infatti per chi ha già avuto modo di vedere la trasmissione i punteggi che ci distanziano comunque sia sono veramente pochi perché solamente un punto avevamo rispetto al secondo e questo sicuramente conferma il fatto che comunque eravamo a giocarcela tutti lì a darmi pari. Io dico che per me e per tutto lo staff innanzitutto la soddisfazione di essere arrivati primi nella classifica parziale così come viene chiamata che abbiamo scoperto tutti al tavolo del confronto. Poi sicuramente è un'ulteriore gratificazione enorme quella che chiaramente ci ha riconfermato lo chef Bruno Barbieri in quanto ha aumentato chiaramente anche lo score che avevamo nel punteggio e quindi riconfermando chiaramente vincitori della puntata. Quali caratteristiche deve avere un Bike Hotel per essere considerato come tale? Un Bike Hotel che sia definito tale deve avere dei requisiti assolutamente indispensabili uno di questi è un servizio di guida all'interno del Bike Hotel con una competenza di qualcuno o della proprietà o comunque sia un esterno che abbia conoscenza sul territorio, che abbia un'abilitazione di guida per poter accompagnare gli ospiti e i clienti e una possibilità di mettere a disposizione chiaramente mappe, tracce e quant'altro necessario. Oltre a questo è necessario che un Bike Hotel abbia un'ottima bike room quindi uno spazio riservato esclusivamente per le biciclette in quanto per ogni ciclista la bicicletta è un qualcosa di molto intimo e quindi deve essere assolutamente anche sicura la bike room quindi video sorvegliata, attrezzata, organizzata con tutto l'occorrente il materiale per il primo intervento, prima riparazione. Oltre a questo chiaramente un altro servizio essenziale è che ogni Bike Hotel abbia un servizio di lavanderia quotidiano esclusivamente per abbigliamento tecnico e aggiungiamo infine e non per ultimo chiaramente un servizio di ristorazione che sia equilibrato per le esigenze di chi desidera comunque sia trascorrere una vacanza con la bicicletta all'aria aperta ma chiaramente che sia un pasto equilibrato e completo da carboidrati a proteine a fibre e che possa essere ulteriormente una gratificazione per il bel giro che abbiamo fatto magari durante la giornata. Spesso un programma del genere regala tanta visibilità soprattutto a chi vince vi aspettate magari in futuro maggior successo da parte della vostra attività? Beh, che dire, diciamo che la visibilità è importante in questi giorni effettivamente la prima cosa che rileviamo è che c'è una grandissima esposizione a livello di comunicazione a livello social, a livello di contatti eccetera è chiaro che questo suscita anche l'interesse in richieste richieste telefoniche, richieste per mail eccetera e credo comunque sia che ecco il grosso del lavoro in termini proprio operativo si possa concretizzare nel prossimo futuro quindi nei prossimi settimane, i prossimi mesi in quanto poi la puntata sarà anche disponibile su altre reti quindi oltre che Sky anche sulla 8 e quindi ci sarà la possibilità per tutto il territorio nazionale di rivedere la location e quindi magari di decidere di fare una vacanza qua a Ca'Virginia. È una soddisfazione questa vittoria vostra anche per l'intero territorio marchigiano? Questo è un'ulteriore conferma anche per quello che sta facendo la Regione Marche in questi ultimi periodi che è quello di promuovere quindi il nostro territorio per un territorio vocato al bike e in particolare quindi a tutte le attività outdoor quindi è un'ulteriore conferma di questo ne dobbiamo essere orgogliosi e io ne sono veramente entusiasta e fiero.